Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Che cosa sta succedendo in queste ore su Fortnite ragazzi, non lo so A che cosa sono dovute quelle scosse e soprattutto da dove provengono Ieri sera intorno alle 23, non so se eravate online sul gioco Ma la maggior parte dei player è riuscito a sentire questi sound E soprattutto quello che era l'effetto di quest'evento nel gioco Se vi trovavate qui a sprofondo stantio sicuramente avrete visto questi alberi oscillare E tantissima polvere alzarsi Più l'effetto della camera shaking, quindi ragazzi il gioco che si spostava a destra e a sinistra Non si capiva davvero nulla per due secondi Se ieri sera ragazzi non eravate online, guardate un po' qui che cosa è successo in gioco Ops, che cos'era? E adesso c'è da capire una cosa ragazzi Ogni quanto questi eventi avvengono su Fortnite Ogni quante ore, dato che nei file di gioco erano state trovate circa 50 scosse Che dovevano presentarsi fino a quella che era la fine season Sembra proprio come l'evento del cubo quando si è andato a generare tramite i fulmini Ovvero che ogni tottore accadeva qualcosa E quel punto di mappa subiva tra virgolette dei danni Che cosa succederà a questa mappa che abbiamo di fronte a noi? Arriverà qualcosa dalla parte in alto a destra, quindi nord est della mappa Proprio dove andiamo a guardare ogni volta quella lucina lì posta Lontanissimo dalla nostra mappa Quello che potrebbe essere un cosiddetto vulcano Oppure succederà qualcosa qui alla parte in basso a destra, sud ovest della mappa Quindi più sotto di picco polare Per il momento abbiamo pochissime informazioni ragazzi Qualcosa potrebbe avvicinarsi dalla parte nord est Proprio come è avvenuto con quella che è la parte sud ovest Quando l'iceberg a inizio season ha impattato con questa zona della mappa Fatemi sapere qua sotto tra i commenti ragazzi Se avete sentito queste scosse nel gioco E soprattutto l'orario ed il posto in cui vi trovavate Nel momento in cui le avete sentite Ciò servirà per chiarire determinate cose E anche per andare a prevedere quelle che saranno le future scosse Quindi giusto per renderci un'idea Per il momento guardando quelle che sono le varie clip Di tutti coloro che hanno assistito a queste scosse nel gioco Abbiamo potuto notare che le maggiori scosse si siano potute avvertire Qui intorno a Sprofondo Stantio Poi verso Rifugio Ritirato Bosco Blaterante Sponde del Saccheggio Passatempi Pomposi A Tempio Dometrio ragazzi ho visto tantissime clip Dove si alzava tanta di quella polvere Mentre c'erano queste scosse Quindi prima cosa vedremo dove queste scosse porteranno Perché ricordo mancano veramente pochissimi giorni a fine season Sicuramente ci sarà un cambio radicale a quella che è la mappa Perché appunto queste scosse ragazzi Questi mini eventi Perché sono dei mini eventi che porteranno ad un evento di grossa portata finale E secondo me da tale evento la mappa subirà dei cambiamenti drastici Stessa cosa come successe con il meteorite che colpì Sprofondo Stantio E non Pinnacoli Pendenti Ma chi lo sa magari questa volta l'epicentro del terremoto potrebbe essere proprio sotto Pinnacoli Pendenti Anche perché è stato trovato un altro file tra le cartelle di Fortnite Dove c'è scritto Destroy Tilted Towers Però ovviamente la epic ormai è nota per fare questi troll Dato che sono a conoscenza del fatto che le persone liccano tutte queste fonti ancora prima che debbano uscire Quindi ogni tanto si diverte anche a trollare Ed è quello che lo definirei anche io ragazzi Un puro troll Quindi ragazzi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questi mini eventi che stanno accadendo sulla mappa Se questi secondo voi sono collegati anche a quella che è la lucina che abbiamo visto E' parlato veramente tanto in questi giorni posta su quella montagna E soprattutto se sono collegati anche a quello che è il refuoco Quindi il nostro prigioniero Quindi ragazzi il video per il momento si conclude qui Volevo solamente farvi avere questo mini aggiornamento sul canale Mettervi a conoscenza di quello che è successo in pochissime ore Se questo argomento vi interessasse ragazzi vi invito a lasciare un bel like Seguiremo anche questi mini eventi che porteranno ovviamente ad un evento finale Come hai già detto che sarà gigante Chiuderà questa season e andrà ad aprire quella che è la season 8 Noi ci becchiamo nel prossimo video aggiornamento Un salutone da Martex Ciao brother